coronavirus casi in risalita a rimini ma comunque nelle medie dell'ultimo periodo tra i decessi in poco più di due settimane i casi attivi sono scesi di 1200 unità processo rimini yacht l'ex patron giulio lolli condannato a quattro anni e sei mesi per associazione a delinquere in prescrizione gli altri reati e mario draghi l'uomo incaricato di superare la crisi di governo nel suo intervento di apertura dell'ultimo meeting a rimini un'attenzione particolare per i giovani calcio niente gara con la correggese oggi pomeriggio per i rimini emiliani in isolamento preventivo ieri sera la notizia del rinvio a data da destinarsi buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di caro tg la situazione coronavirus dopo i numeri bassi di ieri tornano a crescere oggi i contagi a rimini e in emilia romagna rimanendo comunque nelle medie recenti e continuano a calare i ricoveri il report settimanale trasmesso dall'ausl romagna intanto consolida i segnali di miglioramento della situazione in poco più di due settimane nel riminese i casi attivi sono scesi di 1200 unità sono 147 i nuovi casi di coronavirus a rimini di cui 80 sintomatici in risalita rispetto agli 84 di ieri ma comunque nella media dell'ultimo periodo 230 le guarigioni tra i decessi si tratta di tre uomini due di rimini di 77 80 anni e un 81enne di sant'arcangelo in regione i nuovi casi sono 1047 su un totale di 23.806 tamponi di cui 10.270 rapidi la percentuale dei positivi sui tamponi risale al 4,4 per cento pur restando bassa rimini oggi è la seconda provincia per numero di casi dopo bologna con 195 in regione le nuove guarigioni sono 1875 e fanno scendere i casi attivi a 44.402 904 in meno rispetto a ieri il 94,8 per cento è in isolamento domiciliare resta alto il numero dei decessi 76 anche se in molti casi relativi ai giorni passati con tempi lunghi per la conferma della causa della morte tre delle vittime avevano tra i 51 e i 56 anni continua ad allentarsi la pressione sugli ospedali i pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 194 4 in meno rispetto a ieri ma rimini risale da 19 a 20 i pazienti ricoverati negli altri reparti covid sono 2.122 53 in meno oggi è arrivato anche il report dell'house l'ormagna sul periodo 25 31 gennaio in provincia di rimini nuovi casi sono stati 956 una settimana prima 10 in più ma due settimane fa erano 1.368 30 i decessi anche in questo caso continua il trend di contrazione una settimana fa erano stati 37 due settimane fa 47 il totale delle vittime ha superato quota 700 i casi attivi sono calati di quasi 500 unità dopo le 400 della settimana precedente e nei primi giorni della nuova settimana sono scesi ancora di oltre 330 arrivando a quota 2.165 in emilia romagna per le prossime due settimane resta immutato il regime didattico per le scuole secondarie di secondo grado gli alunni delle scuole superiori infatti proseguiranno con una didattica in presenza al 50 per cento fino al 20 di febbraio lo comunica l'ufficio scolastico regionale che dopo la sentenza del tar che aveva imposto la riapertura delle superiori aveva deciso per una didattica in classe al 50 per cento inizialmente fino al 6 di febbraio la decisione è stata presa d'intesa con la regione e la prefettura di bologna siamo alla cronaca giudiziaria oggi al tribunale di rimini la sentenza per il processo nei confronti di giulio lolli legata alle sue attività come patrone della rimini yacht finita alla centro appunto della bufera per una serie di vicende di truffe nelle compravendite lolli che era in collegamento video e ha rilasciato delle sue dichiarazioni vediamo come andate quattro anni e sei mesi di reclusione e questa la decisione del tribunale collegiare di rimini preseduto dal giudice raffaella ceccarelli nei confronti di giulio lolli l'ex patron di rimini yacht a processo per una truffa da 300 milioni di euro cadute in prescrizione le imputazioni di falso estorsione appropriazione indebita condannati invece per il reato di associazione a delinquere finalizzata la truffa lolli in video collegamento dal carcere di massima sicurezza di rossano calabro dove è detenuto con l'accusa di terrorismo internazionale dalla procura di roma ha rilasciato spontanee dichiarazioni respingendo le accuse sostenendo di aver agito per salvare la società il pm davide ercolani che aveva chiesto una condanna a 12 anni e sei mesi nella sua requisitoria ha definito lolli come un robin hood un po strano che ruba i ricchi e si tiene i soldi per sé poi lo accusato senza mezzi termini di aver distrutto la nautica riminese per colpa sua intere famiglie sono andate sull'astrico non ha solo danneggiato finanziari e ricche società ma anche decine di lavoratori attaccato il magistrato ripercorrendo i punti salienti dell'inchiesta ha poi spiegato che ci sono voluti anni e anni di lavoro giorno e notte per ricostruire insieme ai carabinieri quanto combinato dall'ex patron di rimini yacht poi scappato in libia lasciando dietro di sé solo macerie secondo il teorema accusatorio l'imprenditore bolognese difeso dall'avvocato antonio petroncini del foro di bologna avrebbe realizzato una lunga serie di truffe legate alla compra venita di yacht di lusso in particolare attraverso finanziari e san marinesi sarebbe riuscito a vendere a più acquirenti le stesse imbarcazioni da milioni di euro con la sentenza odierna per il pirata come stato ribattezzato lolli si conclude il processo riminese resta in piedi invece quello romano dove è chiamata a rispondere dei reati di terrorismo e traffico di armi durante gli anni di latitanza trascorsi in libia secondo la procura di roma lolli era diventato un guerrigliero di una fazione in lotta per il controllo del paese nordafricano una ricostruzione questa sempre contestata dall'ex patron di rimini yacht che dal suo canto ha sostenuto di aver combattuto l'isis a rimini sono state confermate anche per i prossimi giorni le misure anti smog emergenziali che sono scattate lunedì scorso anche se in città i valori del pm 10 hanno sforato solo ieri dopo tre giorni nei limiti nel bollettino arpa di oggi giorno di controllo sono previsti nuovi superamenti nei prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili in tutto il territorio provinciale e come previsto dalle disposizioni regionali rimangono in vigore fino a venerdì le misure emergenziali già attive e tra queste misure c'è lo stop nell'area cittadina anche per i diesel euro 4 dalle 8 e 30 alle 18 e 30 e la riduzione della temperatura di almeno un grado negli ambienti di vita riscaldati e mario draghi l'uomo chiamato a superare la delicata crisi di governo che rischia di mettere il paese in uno stato di impasse in un momento quanto mai critico dopo il colloquio col presidente della repubblica mattarella l'ex numero uno della banca centrale europea ha accettato con riserva l'incarico di formare un nuovo governo era stato proprio draghi a inaugurare lo scorso agosto al palacongressi di rimini il 41esimo meeting per la mitifia tra i popoli nel suo intervento inevitabilmente legato alla situazione della pandemia aveva dedicato particolare attenzione al tema dei giovani riascoltiamo alcuni passaggi del suo discorso la partecipazione alla società del futuro richiederà ai giovani di oggi ancor più grandi capacità di discernimento e di adattamento se guardiamo alle culture e le nazioni e alle nazioni che meglio hanno gestito l'incertezza e la necessità del cambiamento hanno tutte assegnato all'educazione il ruolo fondamentale nel preparare i giovani a gestire il cambiamento e l'incertezza nei loro percorsi di vita con saggezza e anche con indipendenza di giudizio il debito creato con la pandemia è senza precedenti e dovrà essere ripagato principalmente da coloro che sono oggi giovani è nostro dovere far sì che abbiano tutti gli strumenti per farlo pur vivendo in società migliori delle nostre per anni una forma di egoismo collettivo ha indotto i governi a distrarre capacità umane e altre risorse in favore di obiettivi con più certo e immediato ritorno politico ciò non è più accettabile oggi privare un giovane del futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza dobbiamo lo dico ancora un'ultima volta essere vicini ai giovani investendo nella loro preparazione solo allora però con la buona coscienza di chi assolve al proprio compito potremo ricordare ai più giovani che il miglior modo per ritrovare la direzione del presente è disegnare il tuo futuro grazie è stata celebrata ieri in basilica cattedrale a rimini la venticinquesima giornata per la vita consacrata a presiedere la liturgia è stato il vescovo lambiasi che è partito dalla figura di san giuseppe per descrivere il carisma dei religiosi bellezza gratuità e tenerezza sono i tratti di san giuseppe tracciati dal vescovo francesco durante la celebrazione in basilica cattedrale per la venticinquesima giornata della vita consacrata nell'anno che il papa ha voluto dedicare allo sposo di maria monsignor lambiasi ha colto in lui gli aspetti caratterizzanti la vita religiosa in diocesi consacrati sono circa 400 la stragrande maggioranza donne di famiglie religiose ma anche gli istituti secolari a loro si è rivolto il vescovo parlando della bellezza della paternità e maternità consacrate della gratuità del loro servizio che si fa dono fecondo e della tenerezza giuseppe ha saputo amare in modo straordinariamente casto perché straordinariamente libero ha amato e basta ha amato silenziosamente nascostamente quasi senza farsene accorgere senza dirlo neppure a se stesso senza mettere la firma personale di proprietà Gesù ha visto in lui l'abbà il fortissimo babbo la tenerezza di dio in carne umana la sua castità non provoca in lui una paternità diminuita ma dilatata sorelle fratelli fatici respirare il profumo inebriante della vostra fragrante tenerezza parliamo di calcio è arrivata ieri sera la notif del rinvio adatta da destinarsi della gara tra correggese e rimini che era in programma oggi pomeriggio per la quindicesima giornata del campionato di lettanti la squadra emiliana è stata posta in isolamento preventivo in virtù della positività riscontrata per un giocatore della san maurese la formazione affrontata domenica scorsa dagli emiliani il tecnico del rimini richiuti ha programmato così per oggi una doppia seduta di allenamento intanto l'assemblea del dipartimento interregionale si è espressa all'unanimità per lo slittamento della ripresa del campionato nazionale juniore sander 19 salvo ulteriori provvedimenti si tornerà a giocare a partire dal 20 marzo nel frattempo le squadre possono continuare a svolgere gli allenamenti nelle forme consentite dalle disposizioni in vigore siamo in conclusione vi ricordo il nostro sito di informazione news rimini punto it la pagina facebook di news rimini grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione l'augurio di una buona serata grazie a tutti grazie a tutti